Reattivata l'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Miccoli di Barletta, interessata dall'incendio del 12 settembre, ripristinati gli otto posti letto. Il servizio. È stata reattivata l'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Miccoli di Barletta con otto posti letto. La stessa era stata interessata dall'incendio del 12 settembre scorso che interessò la struttura esterna dell'ospedale, provocando ingenti danni all'unità operativa. Letti, attrezzature e impianti sono andati in avaria. Gli interventi sono incominciati immediatamente. I lavori hanno riguardato gli impianti elettrici, idraulici, il soffitto, il pavimento, gli infissi. Tutti i letti e tutte le apprecchiature sono stati sostituiti. I lavori sono stati conclusi nei tempi previsti. Con la riattivazione sono ripresi anche i ricoveri, ha fatto sapere la direttrice generale della ASL BT Tiziana Di Matteo. Sono attivi tutti gli otto posti letto di cui è dotata la struttura. L'incendio, ricordiamo, interessò la piastra rianimatoria realizzata dalla Protezione Civile e inaugurata a gennaio 2021 per far fronte all'emergenza Covid, ma ormai era inattiva da oltre un anno. L'incendio aveva provocato danni ingenti reddendo la struttura completamente inagibile e pericolante. L'unità di rianimazione era l'aria più vicina, infatti, a quella esterna interessata dalle fiamme.